Ciao agli amici di Moto.it, è stata una gara difficile, due manci completamente diverse, una con il duro, con l'asfalto quasi, molto dura la pista, una con una pista molto bagnata, sotto la pioggia, molto scivolosa e quindi siamo contenti di aver portato a casa questa vittoria e guardiamo avanti per il prossimo Grand Premio. Soprattutto perché qui era un bel pezzo che non vincevi. Sì, era l'ultima volta che avevo vinto il Grand Premio qua e l'unica volta che avevo vinto nel 2007, quindi sono passati sette anni, sei anni, sette anni, quindi è una grande soddisfazione, vincere nella classe poi nella classe regina e quindi siamo contenti, poi i punti, portare a casa sempre nella tabella rossa con 222 punti di vantaggio è qualcosa di speciale, quindi speriamo di poter continuare. Senti, è stata più dura la prima sull'asciutto o la seconda col fango? Sono state tutte e due dure, una in un modo diverso dall'altra. Grazie.